25 ottobre World Pasta Day simbolo di convivialità e gusto la pasta asciutta è il piatto italiano per eccellenza nonché una delle pietanze più diffuse al mondo dal 1995 viene celebrata con una giornata interamente dedicata alla promozione e divulgazione delle sue straordinarie caratteristiche di prodotto principe della dieta mediterranea. L'International Pasta Organization si dedica a divulgare questa semplice verità la pasta non è solo un alimento ma un linguaggio che si è diffuso nei secoli passando di tavola in tavola di paese in paese un'eccellenza gastronomica ed organolettica che si è sviluppata parallelamente e in maniera del tutto indipendente tanto in Asia quanto in Europa. L'Italia è il paese che ne consuma ne produce e ne esporta maggiormente ogni italiano ne mangia in un anno una media di 27 chili tre volte in più rispetto ad un francese o uno statunitense 16 volte rispetto a un giapponese. In questa giornata mondiale della pasta mentre si cerca di indirizzare l'opinione pubblica verso un'alimentazione sana cuochi chef food blog stanno inventando nuove ricette per soddisfare il palato alimentando una passione contagiosa. Grazie per la visione! Grazie per la visione!